Franco Vignati uccise la compagna ma non lo aveva premeditato. E' questa l'estrema sintesi della sentenza con cui i giudici della Corte d'Assise di Appello di Milano hanno confermato la condanna all'ex assessore comunale di Chignolo Po, riducendo però la pena a 25 anni di carcere. Nel dicembre di due anni fa l'ex amministratore, oggi 67enne, era stato condannato all'ergastolo. Ribadita dai giudici anche la responsabilità dei Vignati riguardo all'occultamento di cadavere di Ladvige Cruja, la vittima con cui avrebbe avuto una tormentata relazione sentimentale. Quattro anni fa, dopo averle sparato alla nuca, l'uomo avrebbe gettato il corpo della 41enne albanese nel fiume Lambro. Col chiaro intento sostengono i giudici di non farsi scoprire. Difficile, secondo i legali dei familiari della donna, capire come il fatto di essersi portato una pistola all'incontro con lei potesse non costituire un'evidente prova di premeditazione. Confermate per il resto tutte le provvisionali nei confronti dei figli della vittima, del fratello e della sorella per circa 450 mila euro totali. Nel merito dello sconto di pena, sia i legali di parte civile che il difensore di Vignati rimangono in attesa di leggere nel dettaglio le motivazioni della sentenza. Secondo Lino Terranova, avvocato di Vignati, ci sarebbero stati solo indizi contro di lui e non prove in grado di fornire la certezza della sua responsabilità. Per questo il legale ha assicurato il ricorso al terzo grado di giudizio. Il corpo della donna era stato trovato ai primi di giugno del 2016, incastrato nelle griglie della centrale elettrica sul Po di Isola Serafini, non lontano da Piacenza. Vignati, come emerso dalle indagini, era stata l'ultima persona a vederla viva in quell'incontro sulle rive del fiume in cui lei gli avrebbe detto che la loro relazione era finita.